Oggi ci troviamo a Serra San Bruno, con il vostro G.I.J. su Radio Facebook. Guardate che meraviglia di dolci. Uno potrebbe pensare se è in Sicilia. No, no, siamo in Calabria. Anche in Calabria fanno pasticcini così. Ma alla nostra destra abbiamo il maestro, colui che realizza queste opere d'arte culinare. Il signor? Spatola Andrea. Buongiorno. Allora, ci troviamo nel bar? Pasticceria Grande Puffo di Serra San Bruno. Che si trova in? Piazza Teresca, vicino al monumento. Senta, ma qual è il dolce più richiesto nel vostro bar? Un po' di tutto, diciamo che siamo forti con la pasta di mandorla, babà, profiterol, semifreddi, un po' di tutto. Senta, io ho mangiato un gelato artigianale, il pistacchio, il vero pistacchio, senza colorante, ho visto da dove viene. Diciamo che è siciliano, origine Sicilia. Bronte, diciamo. Pior d'arte. Pior bene, ok. Ma sente, invece le torte, fate torte, ci fa vedere qualcosa? Ecco, questa è la vetrina dei semifreddi. Saker, red velvet, arangipane, mossa. E quanto riguarda i compleanni invece? Tutto, come catering. Avete qualcosa da farci vedere di torte, magari impasta da zucchero? Sì, come no, c'è giusto qualcosina. Tipo questi qua sono degli esempi, diciamo, quindi per comunioni, matrimoni, esatto. Il pezzo forte del vostro bar, più richiesto qual è? Vabbè, pure la cornetteria, cornette artigianali, savaren, un po' di tutto. E apertura da? A che giorni? Apertura dalle 5 e mezza di mattina fino a mezzanotte di sera. Tutti i giorni, tranne i lunedini, i periodi festivi, sempre aperti. Ma fate anche rosticceria? Pure. Catering salato, dolci. E senta, per quanto riguarda l'aperitivo con gli amici, uno deve chiamare o trova qualcosa? Ottimo aperitivo. Quindi uno viene la mattina a sera, si fa una camminata a Santa Maria, torna, alle 5 e mezza si mangia il vostro cornetto. Può fare tranquillamente. Un numero telefonico per ordinare i vostri dolci? 3, 2, 4, 5, 6, 1, 4, 7, 9, 8. Va bene, vi ringrazio. Grazie mille, gentilissimo, buona giornata.